Forse uno dei momenti più suggestivi di questa giornata palermitana, ovvero la visita alla Cappella Palatina. Qui al Reggina sono state spiegate le varie opere, è stata spiegata l'architettura, è stata spiegata la storia di questo luogo. Si tratta di uno dei momenti centrali della visita, ma anche del momento centrale della visita a Palazzo dei Normanni. Quella a Palazzo dei Normanni è stata dunque una delle tante tappe della visita iniziata questa mattina. Poco dopo le 10 con l'arrivo ai quattro canti. Ad accogliere il re di Olanda, Willem Alexander, la regina Maxima, il sindaco di Palermo, Luluc Orlando, oltre a una folla di curiosi, turisti e spettatori per caso, oltre a truppe televisive arrivate anche dall'Olanda. Pochi passi a piedi per raggiungere Palazzo delle Aquile, qui la prima delle tante firme della giornata palermitana dei Reali. Nel caso specifico il registro d'onore della città, poi la consegna dei doni da parte del sindaco. Pochi minuti di tempo per affacciarsi da una finestra di Palazzo delle Aquile e mirare così il panorama per lasciare poi la sede del comune e continuare la visita che, nonostante la rigida scaletta, ha accumulato almeno una ventina di minuti di ritardo. Willem Alexander era salito al trono olandese il 30 aprile del 2013, succedendo alla madre, la regina Beatrice, che aveva annunciato la propria abdicazione in diretta televisiva. Il matrimonio con Maxima Zoreghieta, argentina, di origini francesi, spagnole e italiane, è stato celebrato nel 2002. La regina, anche nella visita di Palermo, ha confermato una passione che la comuna a molti Reali europei, ovvero quella per i cappelli. Nei palazzi della politica, in ogni caso i momenti più istituzionali della visita, che ha toccato anche luoghi più informali, ad esempio lo spazio co-working molti volti, per incontrare alcuni giovani migranti coinvolti nell'attività del centro. D'altronde la scelta di Palermo, come una delle tappe della visita in Italia, era stata appresa anche per manifestare solidarietà alla Sicilia, aveva detto il re di Olanda, che sta affrontando da sola e con grande coraggio la crisi dei migranti. Il tema è stato anche al centro di un briefing in questura sulla collaborazione tra la giustizia e la polizia olandese ed italiana nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Alla fine dell'incontro, la firma di una lettera di intenti tra il procuratore nazionale olandese e il procuratore capo della Repubblica di Palermo, Francesco Lovoi. Altra tappa, Piazza della Memoria, un luogo simbolico della lotta alla mafia dietro al tribunale. A chiudere la visita, un pranzo a Villa Niscemi, nella sede di rappresentanza del Comune. A chiudere la visita, un pranzo a Villa Niscemi, nella sede di rappresentanza del Comune.